Eccomi ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Vapor oggi video tutorial importante sui dei come sapete il vapor contadino sta bello on fa 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 fire quindi oggi andiamo a vedere quello che è inerente al mondo della pesca vi andrò a spiegare tutto quello che dovete sapere come funziona il pescare come andare a valutare quali acquisti fare tipo retificio aragoste così via insomma tutto quello che c'è da sapere riguardo alla pesca voi però mi dovete far vedere che questi tipologi di video vi piacciono attraverso un like che è gratis vi ricordo che il like è gratis l'attivazione della campanella è gratis quindi iscrivetevi dobbiamo arrivare a 13.000 iscritti quindi iscrivetevi e condividete con il canale con i vostri amici che sicuramente può aiutare la crescita vi ricordo che alle ore solitamente verso le 17 così io sono in live quindi mi trovate il pomeriggio in live allora hey day hey day hey day ho aggiornato un po il profilo ho fatto qualche acquisto tramite i ragazzi che mi aiutano come sempre vi ricordo il pomeriggio in live sono andato ad investire dei soldi in alcune consegne particolari in modo tale che ho farmato molte monete questo perché perché nella città mi è stato detto che dovrò andare a spendere abbastanza soldi con la reputazione di livello 5 costeranno sempre di più questi edifici e dato che io voglio portare avanti anche la città ho capito che forse è meglio risparmiare un po di soldi su hey day sono andato a fare anche qualche consegna particolare vedete che comunque i ragazzi ci danno sempre i cuoricini e ci lasciano sempre molto molto contenti arriverà poi il treno come sapete vi ho spiegato tutto nel video come funziona riguardo al treno e riguardo ai passeggeri lo trovate qua in alto nelle schede cliccabili riguardo alla città fatemi sapere cosa ne pensate vi ricordo che se volete abbonarvi gratuitamente avete la possibilità di farlo con amazon prime su twitch vi lascio il link qua sotto per collegare i due account e chi lo farà avrà la mia amicizia gratis su tutti i giochi supercell per la durata del mese dell'abbonamento di che barca sto parlando la barca non è quella che pensate voi questa barca qua la barca delle consegne che penso tutti abbiate perché si sblocca mi sembra ad un livello abbastanza basso tipo 26 io sto parlando di questa barca qua la barca della pesca io la chiamo perché ci porta in un ulteriore mondo oltre alla città c'è anche questa barca della pesca questa barca della pesca sostanzialmente è una seconda area dopo la fattoria principale nel quale noi possiamo andare a guadagnare dei soldi perché attraverso le varie reti attraverso le varie esca attraverso le vari pesci che noi andiamo a prendere otteniamo determinate ricompense come ad esempio esperienza come ad esempio oggetti per espansione come ad esempio oggetti per andare a rimuovere gli ostacoli come ad esempio anche monete e gemme che possono capitare quali sono gli edifici che compongono l'area di pesca la principale principale è questo casolare qua rosso una volta che si ripara la pesca la barca della pesca si ripara intorno a livello 27 costa mi sembra sui 30 30 mila monete all'incirca si avrà questo casolare rosso nel quale noi se schiacciamo sopra andiamo a vedere tutti i pesci che noi abbiamo raccolto che noi abbiamo diciamo pescato nella nostra vita in particolare c'è io ho sbloccato la carpa ramata sono andato sono andato a sbloccare il salmone del danubio sono andato a sbloccare anche il salmone rosso e insomma questi tre pesci qua perché io pesco soltanto con le cose comuni vi farò anche un video a parte riguardo alle esche con i biglietti andrò a spendere un po di biglietti perché come vi ho detto non ho ancora speso nessun tipo di biglietto che possiedo me lo sto tenendo bello stretto per eventuali video futuri quindi se li volete vedere mi raccomando fatemelo dimostrare con un like se noi facciamo questo ci dice come funziona la pesca vedete ci fa tenere il coso premuto li viene poi fuori il cerchiolino e siamo belli che a posto vi faccio vedere una pescata con un esca normale guardate qua mettiamo l'esca qua in mezzo andiamo vicino al pesce il pesce ad un certo punto rimane attaccato noi l'obiettivo è quello di tenerlo verso il centro quindi dobbiamo muovere un po' il dito una volta che arriva sempre più vicino il cerchio diventa verde poi esplode e ci da il pesce la ricompensa appunto della carne che viene data al nostro granaio si possono fare altre pesche qua un'altra pesca si può fare benissimo qua tranquillamente perché adesso vi faccio vedere come è strutturata l'area di pesca e come naturalmente potete andare ad espandere anche l'area di pesca e attraverso i mazzuoli attraverso gli atti d'acquisto potete andare benissimo anche a fare delle espansioni qua nell'area di pesca infatti se voi schiacciate qua vedete un po' che vi dice che possiamo benissimo andare ad utilizzare 4 lati d'acquisto per andare ad espandere ulteriormente la nostra la nostra pesca vi ricordo che non è composta soltanto da questi due da questi due edifici è composta anche da questo questo edificio qua è la banca da lavoro per esche sostanzialmente un edificio dedito alla produzione delle esche non costa lo andate a sbloccare subito insieme al casolare rosso e io di solito vado a mettere queste esche qua ci sono altre esche che sono queste qua che sono più rare che ci permettono di ottenere pesci più rari se volete andarli andarla a provare in un video con me fatemelo sapere con un commento e con un like in base a quello io cerco di capire un po' la situazione un altro edificio importante è questo qua che si sblocca più avanti intorno al livello 31 mi sembra ed è il retificio questo retificio sostanzialmente produce quelle che si chiamano reti sono le reti da pesca vi faccio vedere perché ne avevo caso strano piazzate già due e quindi possiamo andarle a provare senza nessun problema se schiacciamo sopra la rete da pesca noi vediamo che attraverso una sola rete che naturalmente ci mette più tempo che un esca fa tutto in automatico noi andiamo a prendere ben tre pezzi di carne stessa cosa di qua ben tre pezzi di carne questa cosa è veramente clamorosa ed è molto molto efficiente soprattutto per magari lasciarla fruttare di notte voi mettete le reti prima di andare a dormire poi vi svegliate al mattino con sei pezzi di di pesce che sono tanta tanta roba perché mi ricordo ragazzi il pesce qua non è così facile in realtà da andare a sbloccare naturalmente non ci sono delle aree dove obbligatoriamente dovete andare ad utilizzare le reti ma siete voi che dovete scegliere su utilizzare reti oppure le esche in linea di massima però io vi consiglio di tenere la metà per le reti e la metà per le esche all'inizio poi naturalmente la situazione va avanti si blocca a livello 44 la pesca di aragoste che non ho ben capito in realtà come funzioni e sinceramente non l'ho ancora sbloccata però sostanzialmente mi sa che ci sono queste sorte di di reti che vengono immerse sott'acqua catturano delle aree dell'aragoste e per un po di tempo e poi le potete andare a sbloccare successivamente c'è ancora a livello 50 la trappola per anatra che è molto più complicatella però si è a livello 50 una volta che arriveremo a livello 50 ve la farò vedere questa era più o meno tutto l'infarinatura generale che dovete sapere su questo su questo mondo qua della pesca è abbastanza particolare naturalmente tutti questi alberi qua non possono essere rimossi a meno che poi non si espande ancora di più la nostra la nostra area di pesca che diventa sempre più grande come si fa ad accedere vi ricordo basta schiacciare questa barcolina qua e per tornare indietro c'è una barcolina proprio dall'altra parte che ci porta nel ruscello nella parte dove abbiamo la nostra fattoria il video ragazzi termina qua spero che vi siete divertiti spero che vi sia piaciuto e vi sia stato soprattutto utile è un tutorial generale quindi tutti coloro che iniziano adesso con la pesca devono vedere questo tutorial quindi se te hai degli amici che sai che hanno bisogno di questo tutorial mandaglielo pure ti ricordo iscritti al canale se non l'hai ancora fatto l'ho già detto all'inizio del video e mi raccomando lascia like che secondo me può essere molto interessante iscriviti anche eventualmente al secondo canale ai vari social network come tiktok e instagram che vi ho lasciato qua sotto in descrizione vi ricordo gli appuntamenti domani alle 14 qua sul canale se no oggi pomeriggio verso il 5 45 sono in live ciao belli ciao